Sopra o sottovalutato con? Gianluca Di Marzi. La tua rubrica telefona? Sopravalutata, perché in realtà sì, ho migliaia di numeri, ma forse qualcuno pensa che abbia dei numeri talmente importanti che in realtà poi non ho. L'adrenalina della notizia? Sottovalutata, è un qualcosa che stressa parecchio, però dà anche grandi emozioni. La batteria del cellulare? Sottovalutata, perché ci sono poi i power bank che mi permettono di ricaricarla in tempo quasi reale. Il tempo tolto alla vita privata? Sottovalutata. Chi fa il mestiere al giornalista già toglie tanto agli affetti, nel mio caso lavorando quasi H24, devo dire che vivo dalla mia presenza fisica molto di più di quello che vorrei. L'importanza dei procuratori nelle trattative? Forse anche sopravvalutata questa importanza, perché in realtà sì, oggi sono tasselli fondamentali. Però non sia così determinante come spesso la vogliamo dipingere. Attaccamento dei giocatori ai soldi in fase di trattativa? Forse sottovalutato. Pensano alla qualità della vita, alla maglia, pensano alla passione dei tifosi, però credo che al primo posto forse ci sia discorso dei soldi. Il campionato italiano? Sottovalutato. In realtà abbiamo tanti, soprattutto allenatori, che possono insegnare molto a colleghi di altre nazioni, tant'è che sono tra i più richiesti in assoluto in Europa. Sottovalutato a livello proprio tattico? Gianluca Di Marzio? Sopravvalutato. Soprattutto nell'influenza che mi fu data nel 2015 da ESPN al mondo del calcio. Non credo di essere tra i primi 50 al mondo a influenzare le dinamiche di questo mondo che però amo. Grazie Gianluca. A voi. Grazie a tutti.